Ciao a BetTaste.it, sarebbe piaciuto molto ad Andrea Pazienza questo film su Vini, Pazienza, ok? Eccolo qua, Andrea Pazienza, questo è il ventesimo capitolo del viaggio bellissimo che mi hanno fatto fare il gruppo dell'Espresso e Fandango l'anno scorso nell'arte di Andrea Pazienza, grazie Luca Raffaelli, Giovanni Ferrara e Oscar Glioti, oh, questa è Andrea Pazienza, geniale fumettaro e non solo, coi baffi, c'ha i baffi anche l'omonimo di Andrea Pazienza, Vini Pazienza che non si drogava, a differenza di Andrea, infatti una delle scene più belle di Bleed, ce ne sono, di questo film sul pugile Vini Pazienza è lui che dice io non mi sono mai drogato, mai drogato, mai 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 con una canna, non ho fatto niente, quindi non mi mettete l'anestetico, rimuovete questa cosa senza sedativo e poi farà aaaah e sentirà un grande dolore e vedremo i dettagli di viti tolte dalla testa di quest'uomo e messe nell'acqua col sangue, mi piace sempre, wow, allora voi direte, ma che è? Sì, è un pugile, è un pugile, non era un fumettaro, non si drogava come Andrea Pazienza ma c'aveva i baffi come Andrea, Vini Pazienza è il suo omonimo, pugile nato nel 1962, questo film, Bleed, di Ben Younger, un chilometro da Wall Street, non male quel film, Ben Younger è uno che lavora poco, Prime anche, non male quel film, terza regia, come Kenneth Lonergan, grande autore di Manchester by the Sea, vincitore dell'Oscar per il miglior sceneggiatore originale, Ben, pure te, lavora un po' di più perché sei un bravo regista, Bleed è un film sulla box, è un film sul boxer ma forse anche qualcosa di più, perché? Perché Vini Pazienza, The Pasmanian Devil, Vini Pazienza, Paz, anche lui si faceva chiamare Paz come Andrea Pazienza, Vini Pazienza, dichiari origini italiane, era un pugile che non solo passò dai leggeri ai medi come categoria, perché incontrò un allenatore molto in gamba, interpretato da Aaron Eckhart, che di nuovo torna come in Sully nel ruolo della grande spalla del protagonista, si sta specializzando Aaron Eckhart, no? A quella chiusa meravigliosa nel film di Eastwood con quel sorriso da cagnone e quella grande battuta, qui Aaron Eckhart ancora è molto forte nel ruolo di Kev con la panza pelato, incontra Vini Pazienza in un momento della vita di Vini un po' così e gli dice perché non aumentiamo la categoria? Vini gli fa ma io sono sempre stato leggero, ho vinto tutti i titoli da leggero e Kev gli dice è io la prima scopata che ho fatto, l'ho fatta nel parcheggio della scuola, che devo fare? Ogni volta che faccio l'amore adesso devo tornare nel parcheggio della scuola, battuta stupenda e già da qui già da qui è molto 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 divertente, esatto dovrei portare lì mia moglie adesso nel parcheggio della scuola, grande battuta, a questo punto voi direte ok è un film canonico con il boxer problematico che incontra un allenatore geniale e i due insieme ottengono grandi risultati, è un po' così ragazzi ma c'è anche un incidente stradale, un incidente stradale che ha avuto anche Miles Teller il protagonista nei panni di Vini Pazienza, con questi baffoni non come Andrea Pazienza c'ha dei baffoni più in giù come ce li aveva Vini Pazienza, non somiglia per niente al vero Vini però Miles Teller è un grande attore e attenzione Miles Teller ha avuto tanti incidenti con la macchina, non solo nei film ma anche nella vita, uno a vent'anni gli ha lasciato quelle cicatrici, se voi vedete le cicatrici e poi sapete lui dentro la sua faccia ha delle cose che gli sono state messe, quindi è un uomo chirurgicamente provato, è un uomo chirurgicamente modificato e quindi è un uomo che può, è un attore, è un artista, è un uomo che può sentire come nessun altro forse l'odissea di Vini Pazienza, perché? Perché dopo l'incontro con questo buffa allenatore che già gli chiede di mettere più massa muscolare e aumentare la categoria e quindi passare da leggeri a medi e Vini già fatica ma insomma accetta sta roba, ci sarà un incidente automobilistico gravissimo, io detesto quanto sono telefonati gli incidenti automobilistici, tra i più telefonati che ho mai visto, quello di One Day, di Lonsherfig che non perdonerò mai a Lonsherfig, di Anne Hathaway in bicicletta, una cosa devastante, li posso sempre prevedere gli incidenti di macchina, uno dei più belli invece e meno prevedibili è dentro il lato di Orchidea di Spike Jonze, Chris Cooper che esce con la macchina, ok stupendo, qui c'è un grandissimo incidente, filmato da Dio, da Ben Younger, perché noi non ce ne accorgiamo fino alla fine, quindi già complimenti per aver superato un cliché, soprattutto con un bastardo come me che appunto ormai ho il radar e sento questi incidenti soprattutto quando ci sono le persone col motorino, con la bicicletta, li posso prevedere 5 anni prima, invece qua mi hanno fregato del tutto, mi dice un grande incidente, Vini fa il botto come Miles Teller e gli mettono l'alo, l'alo che si chiama un po' come me ma non è il videogame, è una gabbia di ferro, è un collare di ferro perché lui si rompe il collo, quindi diventa una specie di Frankenstein, diventa una specie di mostro, mi piace molto, diciamo, è terribile inquadrare questo tipo di corazza, questo tipo di cura, di collare, è incredibile inquadrarlo in 2017, perché tu senti il ferro, tu vedi il ferro e quindi è già anacronistico rispetto ad oggi, infatti se vedete anche le immagini vere di Vini Pazienza è inquietante, è inquietante nel film ed è, devo dire, perfetto vedere Miles Teller come si integra in un film del genere. Peraltro ci sono molte citazioni ovviamente anche del Maestro Scorsese, non solo per Toro Scatenato, ma più anche per Wolf of Wall Street, certi tipi di slow-mo, certi tipi di scopate che non vi dico, su certi tipi di letti, però devo dirvi che questo film è molto interessante perché Miles Teller è un grande attore, è il protagonista di Whiplash, ma non solo, sta anche in Divergent ed è, lo scoprì John Cameron Mitchell, il quale, il grande John Cameron Mitchell, il regista di Shortbus Edwig, il quale, Mitchell, disse quando Miles era giovane e non riusciva a trovare i ruoli, gli disse, mi piacciono le tue cicatrici, in quelle cicatrici c'è qualcosa. Piacciono molto anche a noi, Miles Teller è un attore che porta una disgrazia sul corpo ed è per questo che è perfetto per un certo tipo di personaggio e si sta molto imponendo dentro questo cinema della contemporaneità di fatica e di disagio e soprattutto di disgrazia o di corpi sgraziati. Miles riesce molto bene a comunicare questa roba qua, perché? Perché ce l'ha proprio queste cicatrici, quindi è fantastico nel ruolo di Pini Pazienza, The Pasmanian Devil, che gioca con il diavolo della Tasmania, non solo l'animale ma anche il personaggio dei Looney Tunes, Pasmanian Devil, questo pugile molto più anche razionale e equilibrato rispetto a tanti altri pugili che abbiamo visto nella storia del cinema. Il film non è niente male, Benny Younger lo dirige con una certa intelligenza, ma è soprattutto grazie al corpo e alla sensibilità e alla vita e agli incidenti di macchina del vero Miles Teller che vediamo e sentiamo come mai una connessione profonda tra l'attore e il personaggio interpretato dall'attore. Bleed, Benny Younger, sarebbe bello che questo regista lavorasse di più, perché è un regista molto sofisticato e mai banale, anche dentro un genere cinematografico come questo che è pieno di cliché, dai montaggi alla Rocky, ovviamente al vertice emotivo ed espressivo finale, al macismo, alle donne, al circo della box, però è tutto visto e tutto raccontato con grande intelligenza e classe registica. Anche grazie ad attori meravigliosi, soprattutto Miles Teller, Vini Pazienza e il mitico Kev di Aaron Eckhart, pelato e con la panza. Ciao Betteist!